L'Avellino sotto lo sguardo del responsabile dell'area tecnica Giorgio Perinetti ha ripreso la preparazione in vista della gara di domenica ancora in trasferta contro la Dacia Cerignola dell'ex Tisci. Nel match in terra pugliese, Mister Pazienza dovrà rinunciare a Armellina e De Cristoforo squalificati, oltre a Patierno infortunato che ha svolto esami strumentali. Assenze che si aggiungono a quella del lungo adegente Varela, lavoro differenziato per Tito dall'Oio e Tozai. Nella sfida contro il giallo blu rientrerà Palmiero, pronta a prendere nuovamente una maglia da isolare il centrocampo, dove il tecnico di Sansevero si ritroverà con gli uomini contati. L'ex Pescara con Rocca è certo di un posto, mentre per l'altro posto potrebbe essere ballottaggio fino alla fine tra Pezzella e Leotti, che in carriera agito già da mezzala. L'eventuale dirottamento dell'ex regina in mezzo, qualora fosse 3-5-2, farebbe scivolare Frascature sull'auto sinistro con il rientro di Cionec in difesa. L'ottaggio tra Gori, che non è di sicuro nel suo momento migliore, e Marconi, voglioso di riscatto dopo un periodo in cui ha giocato veramente poco. Per lui 48 minuti totali nelle ultime 11 partite.